Buongiorno, buona domenica a te, la madre di nessuno, ma che stai a fare? Una sega, fa sempre le seghe, anche di domenica, nonna, sta a fare una sega, lo stesso contempo qui abbiamo la signora Cotonfioc, tutta cotonfioccata, che sta a fare la torta al formaggio, le lasagne, guardate che lavoro, sentite, sentite l'odore, sentite, mamma mia ragazzi, le patate, ci sta le patate al rosso, patate al rosso, eccolo qua che attende molto impazientemente, patè di fegato, torta con sfrizzoli, salsicce, olive, cremini, pecorino, pecorato, torta di pasqua, supplia, eccolo qua, c'è voglia di mangiare, di la verità, eh, che tempo, a me tutta sta roba, niente, non ti piace niente, niente, non ti piace, vabbè allora, e poi finisci qui, vedi la papà di quanta roba ha fatto, ma che c'è, il convento di frate, che c'è, non ti piace niente, ma manchi c'è, il convento di frate? non mi piace niente, non mi piace niente, non mi piace niente, mi piace niente, ma basta, no, dottore, ma tu, dimensata niente, ma sconsa, ma sconsa, come te fai in mano? no, la legge del taglione, ammurabi, 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 pasta al forno noi la chiamiamo, ok? la potete chiamare lasagna, come si chiama? lasagna, però a noi piace pasta al forno, perché fondamentalmente è un po' di pasta messa al forno, è stop, vero? mica ci stanno tre chiede besciamella dodici mozzarella le salsicce in mezzo no è pasta al forno quello che c'è non ve lo chiedete quant'è buona ma è roba non ci voglio credere io non ci voglio credere ancora da mangiare io non mangio guarda da me io mangio domani una settimana ci mangio tutto sto pollo dai la metto dove lo metto ma questo come faceva il pollo come faceva come faceva il pollo come 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 faceva come faceva era un gallo come faceva montava come faceva montava montava come faceva vaffanculo buona domenica e buongiorno sto qui e mi guardo un po' intorno mentre mangio pasta al forno vorrei essere protagonista di un bel porno e viva la fica buongiorno Grazie a tutti.